Cari amiche ed amici, qui un'altra volta il vostro Sant'Enchan a parlarvi del referendum ellenico, quello per intenderci promosso dallo stesso Tsipras e che ha in luso milioni di grechi e badate bene che lui pugnava per il no e infatti in molti hanno votato no, pareva che solo i deficienti avrebbero votato sì, anche se in molti hanno anche votato sì, la Grecia si è ritrovata il giorno dopo, il giorno dei risultati, spaccata in due, ma dicevo pareva che solo gli stupidi votassero sì, tutti hanno votato no e Tsipras ha minacciato, se vince il sì io mi dimetto e si va a elezioni. Tsipras è di sinistra, quante volte abbiamo dito questo in bocca ai nostri esponenti della sinistra, ai nostri emeriti esponenti della sinistra. Prodi, se mi togliete la fiducia mi dimetto, votate compatti per resistere alla destra e infatti Rifondazione Comunista l'ha subito fatto cadere, ma anche Berlusconi che l'ha fatto cadere il suo alleato di destra della Lega. Insomma, questa storia di o votate come dico io o me ne vado, in Italia non sembra una minaccia, si direbbe che la gente vota il contrario proprio perché se ne vadino. Invece in Grecia è risultata una minaccia plausibile, anche perché in anni di mal governo è arrivato il liberatore Tsipras a promettere chissà che cosa. Poi invece si è visto che le promesse di Tsipras non potevano essere mantenute. Lui ha detto che non cedeva a nessuna condizione della Troica che avrebbe fatto a modo suo, cioè non pagare le cifre e soffe che voleva la Troica e fare i tagli sproporzionati che voleva l'Unione Europea, gli Stati Uniti e non so che. Invece ha fatto il contrario, hanno votato no e la sua proposta, sua fra virgolette, è stata più dura per i greci della proposta dell'Unione Europea, della Merkel, del Fondo Monetario Internazionale, della BCE, è stata molto più dura. Se dovevano ridare 10 miliardi o 10 mila miliardi di Euro, adesso Tsipras vuole ridare 13 mila miliardi di Euro. Quindi ci saranno dei tagli sulla scuola, sulle pensioni, sull'educazione, sugli ospedali e anche sulla sicurezza. Ecco, io mi soffermo su questo, sulla sicurezza. Guardate che pochi giorni fa quelli dell'Isis hanno attaccato militarmente l'Egitto, hanno attaccato una nave egizia e hanno voluto attaccare i confini del Sinai dell'Egitto. Quindi la Grecia sta anche lì vicino, è stata coinvolta anche se non direttamente nella guerra dei Balcani, come vicino c'è la Macedonia, ma non sta molto lontano dai teatri belligeranti nei quali interviene l'Isis, sta più o meno da quelle parti. Quindi che significa che la Grecia deve fare dei tagli sulla sicurezza e sulla difesa? Che vogliamo? Che prossimi monumenti e prossimi reperti archeologici, a essere distrutti dai fanatici dell'Isis, siano grechi? Vogliamo quello. Comunque dicevo, a Zittas non sono andate le cose come voleva, ha fatto una frittata, perché lui diceva, se votate sì io mi dimetto. Lui credeva che se vinceva il no, poi i grechi avrebbero accettato le sue proposte, come dire, con un certo revancismo e sciovinismo nazionalista. Come dire, se noi vogliamo l'austerità, ce l'impegniamo noi, con la maggioranza di governo, non che vengano a imporci l'austerità da fuori. La piccola austerità imposta da fuori è un orrore. Invece la grande austerità che i grechi si possono autoimporre, quella è meglio. Invece la gente non pensa come Zittas. La gente pensa che un'austerità più dura, autoimposta, è peggio di un'austerità più morbida, imposta da fuori. I tagli alle spese greche che Zittas ha imposto al suo paese sono più duri dei tagli che la Troica gli imponeva. Addirittura la Merkel è più flessibile di Zittas. Quindi, come dire, che Zittas abbia fatto il doppio gioco non lo dubito a più nessuno. Forse ha fatto il gioco a favore dell'Europa, approfittando del fatto del suo rivencismo, del suo giovinismo, del suo campanilismo nazionalistico, ha voluto far passare per rivendicazioni nazionalistiche la sua soluzione economica di austerità che in realtà ha peggiorato l'austerità che imponeva l'Europa. Non so se mi spiego. Ha perso insomma pericolo gli atteniesi e i greci in generale. E non solo quello. Zittas si credeva che se vinceva il no, poi il suo piano di austerità, peggiore di quello europeo, la gente lo accettava. Ma, e quindi ha minacciato che si vinceva il sì, lui si sarebbe dimesso. Sicuro del fatto che magari avrebbe governato interinamente perché gli avrebbero affidato un governo prima delle elezioni e che avrebbe anche vinto le elezioni dopo. Ma adesso la gente insoddisfatta che fa? Vuole andare alle elezioni. E chi vuole andare alle elezioni? È proprio chi lo ha appoggiato, chi lo ha votato. Quindi adesso non è certo che se vanno alle elezioni anticipate comunque, perché la gente è insoddisfatta delle misure dello stesso Tsipras, delle misure di austerità di Tsipras, che vincendo il no non sono passate le misure di austerità europee, ma sono passate quelle imposte da Tsipras, che è paradosso, che sono più dure. adesso la gente vuole andare al voto. Ed è insoddisfatta di quello che è successo. Pensavano che non ci fossero più misure di austerità se vinceva il no. Che alla gente gli avrebbero dato denaro in abbondanza, che sarebbero usciti dalla recessione e dall'austerità. invece l'austerità, grazie alle misure di Tsipras, si farà più dura, più austera, più nera, la fame più nera. Beh, questo è stato il mio pensiero del giorno riguardo il risultato del referendum. Sto trasmettendo in diretta e chissà quanti di voi mi ascoltano in diretta. Comunque, io in questi giorni ho fatto dei video sul referendum, su Tsipras, sul debito greco. E grazie al fatto che YouTube ti permette di mettere delle miniature nel video, schiacciando l'icona, un cerchietto con la I, nei miei video, voi potrete andare a dei link che parlano dello stesso tema. Nel caso della Grecia e del referendum ellenico, schiacciando il bottoncino delle schede che parlano altri video sul tema. Io vi ringrazio di seguirmi e di continuare a essere iscritti a questo canale radio. Da molto tempo che non trasmettevo. Spero che quello che io trasmetto vi piaccia. Ogni tanto ascolto i vostri programmi, ma siete molti iscritti. E io sto più tempo creando video per YouTube e cercando di leggere che altro. Comunque, molti di voi trasmettono della musica molto interessante. Qui sono le 18.59, praticamente in secondi saranno le 19.00. Ed io mi chiedo, molte e molti di voi che fate in questo momento che sono le 20, 21, 22, 23, o le 23 o le 24? Ecco, se sono le 23 probabilmente avrete finito da tre ore di cenare o due. E se sono le 24, state svegli e non siete andati a dormire perché oggi è sabato. Mi piacerebbe che voi nelle discussioni del mio canale di YouTube commentaste qualcosa. E poi non vi scordate quello che io ho detto sempre, e cioè che io sono disoccupato. E quindi vi prego, fate in modo, fate in modo, permettete che YouTube mi paghi un centone di dollari. Guardate tutti i miei programmi di YouTube, tutti i miei video voglio dire, e cercate di commentarli, di mettere mi piace se vi piacciono, perché così più aumentano le visioni e più voi compartirete il link dei miei video, fra amici, parenti, familiari, vicini di casa, contatti in rete, ma anche perché no, nemici, prima di tutto perché non saranno miei nemici. E poi magari se voi vi volete fare una cattiveria che non vi spiace qualche mio video, glielo mandate il link a un vostro nemico, non so. Magari a lui gli piace o magari si scoccia. Comunque io sono disoccupato e fin da 12 anni volevo essere scrittore, però è difficile che qualcuno ti pubblichi, quindi mi sono sempre demoralizzato, ma adesso ho cominciato dal 2013 a diffondere le mie idee attraverso YouTube, Vimeo, Dailymotion, Spreaker e quindi vi prego, almeno così potrò avere dei risparmi per comprarmi un cellulare migliore, magari un Samsung Galaxy S6, oppure non so. Ecco, nelle discussioni del mio canale, se voi guarderete abbastanza video, vi autorizzo a scrivermi delle suggerenze. Che cellulare vi piacerebbe che mi compri se, contribuendo voi con le visioni dei miei video, YouTube arrivasse a pagarmi, è sufficiente come per comprarne uno. Mi consigliate di comprare un Blackberry Passport? Mi consiglierete voi di comprare un Apple iPhone 6 Plus o Apple iPhone 7? Qui non si trovano direttamente in vendita. Oppure mi consigliate voi un Samsung Galaxy delle ultime generazioni o chissà quale altro, basta che ci abbia Android per le applicazioni, oppure non so, un LG, un Sony. Chiaro, se voi guardate i miei video anche per aiutarmi a che YouTube mi paghi, avete il diritto poi di suggerirmi che cellulare comprarmi con quello che YouTube mi pagherà. La politica è tutta uguale comunque. Voi vi ricordate quanti referendum abbiamo fatto in passato? Per esempio per l'abolizione della finanziazione pubblica dei partiti. Ebbene, pochi anni fa c'è stato lo scandalo di Ciarra Pico, non so, mi sembra che era lui quello della Margherita, che prendeva le finanziazioni della Margherita, un partito nato dal Tangentopoli, un partito della Seconda Repubblica, che poi diciamo si è estinto e che continuava a prendere finanziazioni pubbliche. In pratica si sono magnati 12 milioni di Euro, in Cene, anzi di rappresentanza, perché continuavano a rappresentare un partito che già politicamente era inesistente. Tutti i partiti nati da Tangentopoli e mani pulite, la Corcia, la Margherita, l'olivo, il girasole, tutto un vero bosco, tutta una vera selva.